e dopo tanta attesa è finalmente fuori la terza e nuova stagione della serie mare fuori disponibile proprio da oggi su rai play con i primi sei episodi la messa in onda invece di prime time partirà mercoledì 15 febbraio tante novità tante curiosità che appunto ripercorreremo in questa terza serie e di cui vi potremo raccontare qualcosa con il nostro ospite appunto ancora protagonista di questa terza stagione il buongiorno ad antonio da quina antonio ciao grazie di essere qui con noi come stai ben trovato buongiorno a voi grazie per avermi invitato ma grazie a te di essere qui con noi allora raccontiamo del tuo ruolo il ruolo che ritroveremo nella terza stagione tu sei milo sono componente della band della band di ciro ed eduardo però senza fare spoiler ti chiedo come si evolve il tuo personaggio cosa dobbiamo aspettarci nella terza serie come si evolverà milos allora guarda milos nella terza finalmente scoprirà le sue carte quindi vedremo milos completamente nuovo diverso che scopriamo anche i suoi punti deboli quindi le sue debolezze e non vedo l'ora dimostrata al pubblico che aspetta anche loro da due anni la sua storia quindi è vero perché non conosciamo la storia si conosce nulla perché per le prime due stagioni è stato un po un personaggio misterioso chiuso che non si mostrava tantissimo quasi non parlava mai adesso invece adesso invece chissà che cosa accadrà abbiamo detto non possiamo spoilerare stai vivendo grazie a questo ruolo giorno dopo giorno sicuramente un sogno ad occhi aperti antonio ecco come stai respirando questo momento comunque di successo ma soprattutto come arrivato a milos nella tua vita è arrivato all'improvviso non me l'aspettava arrivato con il provino tipo quattro anni fa dove facevo tutt'altro cosa facevi e lavoravo in cantina navale lavorava all'estero ma ma mi con mio padre e poi da lì e comunque avevo il sogno di diventare un attore della recitazione della passione quindi ogni volta che tornava in italia cercavo qualcosa che comunque mi facesse recitare la voglia di ritornare a casa per questo motivo sì quando sono tornato poi in italia io frequentavo una scuola di recitazione dove dopo sei sette mesi mi mandano il provino per romare fuori ed eccomi qui a raccontare di milos per milos in questa terza stagione della serie mare fuori il tuo personaggio che abbiamo potuto conoscere è quello che abbiamo capito e che milos ha un forte senso di amicizia di legame no con gli altri componenti della band che sarebbero edoardo ma anche totò o ciro in cosa ti somiglia a questo personaggio quanto c'è di antonio e milos forse solo a livello di amicizia senso dell'amicizia senso dell'amicizia io sono molto legato ai miei amici conosco due miei amici che conosco da 15 anni che sono come fratelli per me quindi credo molto nell'amicizia e questa cosa qui rispecchia molto il mio personaggio che anche lui crede nell'amicizia anche se sono amicizie sbagliate che lo portano in scelte non tanto giuste però lui comunque crede molto in loro crede si fida tantissimo è una band che resterà legata questo lo possiamo dire non voglio fare spogliere però vedremo ti sto tentando ti sto tentando intanto ecco tanto coraggio passione tenacia sicuramente queste le caratteristiche di una storia che effettivamente ha coinvolto milioni di telespettatori antonio ecco ragazzi che riescono però a credere nel potere della seconda possibilità perché poi questo è il messaggio no che la serie vuole restituire la possibilità di poter ritornare di poter rinascere ad una vita appunto un po più più pulita un po più modesta qual è secondo te antonio il segreto del vostro successo perché mare fuori e i ragazzi del cast di mare fuori piacciono così tanto guarda l'hai detto proprio due perché da una seconda possibilità ai ragazzi giovani come me di permettere di fare un'altra scelte di fare altre scelte quindi di seguire una strada giusta e non quella sbagliata quindi guardano noi noi nei nostri personaggi si rivedono e grazie a noi dicono guarda allora c'è un'altra possibilità possiamo farlo e qui si vede una grande forza una grande forza tra l'altro ecco noi viviamo no in una realtà molto delicata la nostra regione per cui effettivamente è un'occasione per aiutare aiutare i ragazzi a sensibilizzare su quelle che devono essere probabilmente le giuste scelte perché questo ci insegna insomma a capire che quando si sbaglia purtroppo non si va così lontani e quindi dà la possibilità di avere comunque siamo giovani siete giovani però la possibilità di sbagliare insomma tutti possiamo sbagliare ma possiamo sicuramente recuperare recuperare Antonio mare fuori ha cambiato la tua vita credo restituendoti di grande popolarità appunto basti pensare al fatto che tutti quanti questa sera non vediamo l'ora quindi vedere l'inizio della prima puntata della terza stagione come sta vivendo su questo successo anche perché effettivamente mare fuori ha spopolato no su netflix scalando la top 10 addirittura è ritornata poi dopo sbagliati mesi è ritornato di nuovo in top 3 top 5 quindi siamo lì siete lì ma questo successo come lo stai vivendo tu personalmente Antonio? guarda fortunatamente mi sento fortunato su questo punto di vista mi sento fortunato perché sono rimasto uguale sono sempre lo stesso frequento le stesse amicizie sono molto umile su questo anche anzi mi fa piacere esserlo quindi è un punto di forza che tutti dovrebbero avere restare con i piedi per terra ma avendo comunque lo sguardo verso la testa perché secondo me ti fai male quindi stare umile e stare umile e guardare i tuoi obiettivi e raggiungerli piano 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 perché le bellezze io dico spesso Antonio nel passo lento quindi bisogna anche un po' goderle e metabolizzare quello che si vive di modo da goderlo appieno per poi avviarsi a quelli che sono i futuri passaggi sempre con la coerenza che ti contraddistingue perché poi io presumo che il pubblico riesca a conoscerti poi dopo e se resti coerente con te stesso il successo è assicurato sicuramente per un lungo periodo con i ragazzi invece del cast ecco perché anche lì si è creato possiamo dire una seconda famiglia hai avuto il piacere ecco di intervistare altri tuoi colleghi e più o meno i pensieri unanime vi fate ecco siete affiatati vi aiutate l'un l'altro tantissimo io ho trovato non un cast ma non una seconda famiglia già dalla rima stagione comunque ho trovato colleghi che mi aiutavano che poi dopo in secondo momento sono diventati amici e poi con eduardo ovvero matteo paolillo domenico cuomo viviamo nello stesso b&b quindi ogni giorno eravamo h24 insieme anche oltre al set mangiavamo insieme ci divertivamo insieme chiacchieravamo iniziavamo fare delle scene proviamo delle scene insieme quindi si è creato proprio un bellissimo rapporto ma con tutti con tutti con tutti con i grandi anche anche con i grandi anche con la crescentini crescentini vincenzo ferrera con carmine regano da una cena spesso insieme quindi si è creato un bellissimo rapporto senti c'è un episodio che possiamo raccontare e al nostro pubblico che ti è rimasto impresso che oggi conservi ecco se c'è un ricordo a cui tini particolarmente che possiamo raccontare nella terza nel tutto quello che ad oggi la tua esperienza dalla seconda la terza allora della terza ti posso dire l'ottavo episodio che uscirà l'otto marzo quindi perché oggi noi da qui vediamo i primi sei episodi sul replay i primi sei episodi per il 15 marzo inizieranno dal primo e secondo poi dopo una settimana terza e quarto fino a poi arrivare alla dodicesima dodicesimo episodio quindi l'ottavo episodio della terza stagione racconterà un po di più il mio personaggio viene raccontando un po di più il mio personaggio quindi mi è molto regalato questo episodio dove si capiranno molte cose di Milo sulle sue debolezze quindi mi sta molto a cuore poi dalla seconda invece sta l'episodio finale dove c'è anche il collega anche l'amico che fa male vedere stiamo spoilerando no 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 è la seconda nella seconda stagione la seconda stagione sì però ecco poi nel seguito seguito parlo per sono vago io ti stavo ancora tentando in verità c'è ancora tanto da scoprire su quel personaggio poi vedremo senti cosa ti ha lasciato ecco ad oggi milos invece se nella nella condivisione no dei sentimenti legami di amicizia e ciò che lega antonio e milos quanto ha lasciato invece come insegnamento e milos ad antonio milos come personaggio ad antonio nella tua crescita professionale ma anche umana guarda livello di umanità mi ha lasciato un senso di dare di dare non dare per scontato tantissime cose di apprezzare quello che ho quindi anche mettere un piatto di pasta sulla tavola di domenica di tutti i giorni comunque importantissima per una persona a fianco che nei momenti bui non è sconda una cosa scontata un po come il covido che ci ha preso ci ha portato via un po tutto però già a meno per me mi ha lasciato il fatto di pure di un abbraccio di un valore di un abbraccio che è scontato bisogna di apprezzarlo in quel momento apprezzare anche quelle piccole cose senti posso chiederti anche perché tu hai detto da miami lavoravi con papà in cantina navale e avevi questo dentro di te maturavi questo desiderio questa piccola scintilla che poi è venuta fuori si è innescata con mare fuori oggi sei un volto apprezzatissimo fai parte del casta di mare fuori che cosa ha detto papà posso chiederti questa cosa è il primo a credere in me come tutta la mia famiglia e anche la mia fidanzata quando hai detto prima adesso io ti lascio per un po perché adesso io voglio fare quello che veramente mi piace quindi per un momento sono lì sul casta di mare fuori come l'ha presa papà benissimo benissimo è stato il primo a credere in me sono il primo a dirmi che dovevo abbandonare quella strada e seguire il mio sogno quindi sono molto orgogliosi di me che qui sono e cosa diresti dei genitori che ti hanno sostenuto non finirò mai di ringraziarli perché sono sempre lì a sostenermi su tutto anche quando ricevo dei no le porte chiuse ci sono sempre lì mi giro e sono sempre lì a sostenermi e darmi forza il tuo porto sicuro il tuo porto sicuro la tua felicità grande abbiamo parlato anche della fidanzata però come si chiama jenny si chiama jenny molto contenta anche lei devo ringraziare anche lei se sono qui e sì esatto perché magari sarà anche un po gelosa no guarda questo sono trovata anche su questo perché forse il ruolo non te l'ha permesso può essere non lo so vedremo anche in futuro però ti posso dire che anche lei molto contenta di me ne devo molto anche noi siamo molto contenti di te antonio per le emissioni che ci regali sul set per esserti lasciato intervistare al mio salotto di mattina live hai un pubblico molto seguito sui social che cosa dici loro che rapporto anche ai con i social guarda sicuramente ti apprezzano perché sei un ragazzo genuino fondamentalmente grazie e il mio rapporto colore come un rapporto con un amico seduto in un bar a prendere un caffè mi fa mi piace molto rispondere le loro domande i loro apprezzamenti e mi fa piacere molto sapere il fatto che molte volte mi mandano un messaggio di una guarda grazie a te o grazie al personaggio riesco ad andare avanti ho tantissime fan page che saluto perché ogni giorno mi menzionano le storie mi mandano bellissimi messaggi fantastico fantastico quindi ne menzionano la fan page tra poco adesso ci sono tantissime fan page che comunque mi seguono mi sostengono antonio allora protagonista della terza serie della terza stagione di della serie mare fuori al di là di mare fuori quali sono i tuoi prossimi obiettivi il tuo prossimo futuro i progetti che possiamo raccontare sicuramente ci sarà mare fuori 4 quindi su questo abbiamo detto ci sarà mare fuori 4 beh l'hanno detto anche i sceneggiatori quindi sono sicuro su questo quindi mi concentro su mare fuori 4 e poi in futuro mi auguro di essere felice che è la cosa più bella poi sicuramente di seguire il mio sogno più grande quello di essere un attore a tutti gli effetti hai un riferimento a livello di attori ti posso dire uno grande c'è una giornata appa che il mio rottore preferito perché no un giorno lavorare con lui mai dire mai mai dire mai oggi sei in mare fuori non te l'aspettavi non me l'aspettavo mai dire mai io te lo auguro ti lo auguro di diventare uno straordinario attore in realtà le potenzialità il talento già lo hai perché lo stai dimostrando ma poi hai il talento hai la coerenza e l'umiltà che sicuramente ti porterà lontano complimenti a te grazie ad Antonio D'Aquino alias Milos nella serie di mare fuori in bocca al lupo pubblicitari state con noi